Monselice in Rosa MTB è la manifestazione che porterà Monselice e di Colli Euganei alla ribalta nazionale della mountain bike in questo difficile anno 2020. Una ventata di novità tra gare annullate e rimandate, la gara in calendario per domenica 6 settembre è stata presentata in municipio a Monselice. Finalmente manca una settimana, poco più, al grande evento che abbiamo organizzato in poco più di un mese e mezzo. Monselice in Rosa MTB è la gran fondo che serve per attendere la tappa a Cervia-Monselice del Giro d'Italia, è un grande partente di partenti davanti con la vice campionessa del mondo Pintari che con i grandi campioni della mountain bike italiana, tantissimi team ma soprattutto tantissimi amatori che stanno arrivando da tutta Italia. Un percorso spettacolare e divertente di 46 chilometri e 1250 metri di dislivello, quasi interamente susterrato, a parte i primi chilometri iniziali con alcuni tratti inediti anche per i più assidui frequentatori dei Colli Euganei. Abbiamo cercato di fare un percorso completamente innovativo e di dare un senso di rotazione ai classici sentieri che i biker tutte le domeniche frequentano per creare un po' di pepe sulla gara. All'interno del percorso abbiamo inserito anche due tratti nuovissimi, due discese particolari, e tutti e due con Rock Garden che adesso vanno tanto di moda negli XC olimpionici. È tutto pedalabile, tutto in sicurezza, faremo del nostro meglio per mettere tutto in sicurezza, anzi è tutto in sicurezza, andate tranquilli. Monselice in Rosa MTB è uno degli eventi di contorno organizzati in vista dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia ma che fin da subito brilla di luce propria. Il 6 di settembre siamo già pronti con tutte le misure di sicurezza anche comprese per accogliere questa grande gara, questo gran fondo di mountain bike che appunto si chiama Monselice in Rosa e questo perché vuole essere un'anticipazione di quello che poi sarà il passaggio del Giro d'Italia con la tappa che arriverà qui da Cervia il 16 di ottobre. Sicuramente come diceva lei una gara che comunque vive di luce propria con un grande parterre de rois in partenza insomma dai giardini di Via Argini a destro in centro a Monselice davanti alle mura storiche ma anche con molti atleti che verranno da tutta Italia e quindi avranno la possibilità grazie all'inserimento all'interno dei pacchi gara di buoni dei negozi e anche di buoni per visite turistiche gratuite qui a Monselice di diciamo visitare la nostra città e quindi un'occasione di ritorno sul territorio per quanto riguarda dal punto di vista della ristorazione, dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'ospitalità quindi anche gli alberghi sono tutti pieni mi hanno detto quindi è molto positiva e vive come diceva lei di luce propria e ringrazio naturalmente l'organizzazione che in un mese ha fatto quello che normalmente si fa in sei mesi e tutti anche i volontari che sono coinvolti nell'organizzazione e nella sicurezza del percorso Una grande opportunità per conoscere un angolo di Veneto fuori dai soliti itinerari turistici Monselice ed il suo territorio vi stupirà è una città che ha un percorso meraviglioso dalle sette chiesette dove ci sono anche le spoglie di San Valentino cosa sul quale noi faremo un percorso con un cammino religioso che stiamo appunto approntando in questo momento in questo periodo qua poi una cosa altrettanto importante e forse la maggiore di Monselice come conosciuta è il castello castello che è arredato ricordiamoci non è un castello come dire disabitato è veramente arredato in modo splendido con tutte le attrezzature dell'epoca quindi un fascino sia per i grandi che per i piccini con le spade le armature i guerrieri veramente una cosa affascinante vengono fatte delle visite guidate ovviamente con un numero contingentato in questo periodo causa covid comunque siamo sempre a disposizione sia per la visita guidata all'interno del castello con le guide apposite del castello che è gestito dalla regione Veneto sia con guide nostre all'esterno e per la città di Monselice con guide autorizzate poi abbiamo dei parchi che sono stati inaugurati anche di recente dalla nostra amministrazione parchi in tutti quanti i vari settori di Monselice e nelle frazioni un parco buzzaccarini molto splendido dove ci sono dei cigni stupendi ed è un parco che è anche molto curato abbiamo tantissime bellezze la villa Pisani che è una villa favolosa storica dove la storia e la cultura proprio si fondono insieme quindi per gli appassionati di entrambe diciamo che la nostra città è una città che va vissuta e va scoperta momento per momento appuntamento a domenica 6 settembre per Monselice in Rosa MTB un evento che si merita un futuro tutto rosa per la crescita del movimento delle ruote grasse in Veneto e nei colli euganei appuntamento a domenica 6 settembre per la crescita del movimento delle ruote